Prosegue l'aggressione all'Ucraina da parte di Mosca. L'aviazione della Federazione Russa con missili ad alta precisione ha eliminato un centinaio di nazionalisti ucraini e 23 elementi di equipaggiamento, ha affermato il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo, il generale Igor Kanoshenkov. I sistemi di difesa aerei russi hanno abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, tra cui un Bayaktar TB2 sul villaggio di Mankovska nella regione di Kharkiv, oltre ad aver intercettato tre razzi del sistema di lancio multiplo smerch, ha detto.